Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con un video nel quale vi racconterò le mie mosse all'asta di riparazione del fantacalcio. Com'è la rosa dell'Ancona Calcio 2003-2004 dopo l'asta di riparazione? Asta di riparazione che è stata veramente una schifezza, anzi una merdaccia! Prima di dirvi le mie mosse però ci tengo a fare alcune permesse. La prima è che ogni fantallenatore aveva un bonus di 100 crediti sommati a quelli che ha ottenuto dalle cessioni dei giocatori che ha svincolato. Da ogni cessione di un singolo giocatore guadagnava la metà di quanto aveva speso. Per esempio, se uno all'asta di settembre avanzava 20 crediti e dalle cessioni di adesso ne guadagnava 10 sommati poi ai 100 di bonus, adesso sarebbe partito con un budget di 130 crediti. Altra permessa, si potevano effettuare massimo due cessioni per reparto esclusi i trasferiti all'estero. Per quanto riguarda la difesa, io ho svincolato Ocoli a 1 e Soppi a 4. Centrocampo invece, via McKennie a 1 che è andato in Premier League al Leeds, fuori anche Torsvet a 1 e Sottil a 2. In attacco invece, è stata durissima a scegliere, non sapete quanto mi sia scervellato, non ho dormito due notti di fila per scegliere chi mandar via perché veramente hanno fatto uno più cagare dell'altro, ma alla fine mi sono convinto a salutare il signor Sisai del Lecce per un credito e il gallo Belotti della Roma per 11 crediti. Morale della favola, tra i crediti avanzati a settembre, quelli guadagnati dalle cessioni e i 100 di bonus, io sono partito con un totale di 156 crediti. Con questi soldini, in difesa, sono andato a comprare due giocatori dell'Atalanta. Il primo per 6 crediti è Joachim Mele, terzino a tutta fascia, votato alla fase offensiva, insomma è un po' l'immagine del terzino moderno. Sta vivendo un ottimo momento di forma e io ne ho approfittato. Ho colto la palla al balzo per portarmelo a casa. Tra l'altro, chissà mai che quest'estate quando farò il mio mercato ideale delle squadre di Serie A non inserisca da qualche parte. Il secondo acquisto, 17 crediti, è il giovane Giorgio Scalvini. Difensore centrale che sta pian piano scalando le gerarchie nella difesa di Gasperini. Forte fisicamente, bravo a contrastare e con anche un buon senso del gol. Mele e Scalvini sono due delle poche note liete della mia asta di riparazione. Gli unici due giocatori dei quali sono veramente soddisfatto perché effettivamente possono portare dei bonus. Le note dolenti iniziano adesso. A centrocampo dovevo fare tre acquisti e di questi tre, almeno due non erano delle mie priorità. Il primo è Samarzic dell'Udinese. Spesi sette crediti, quindi non male. Un centrocampista offensivo con gol e assist nel DNA. Quando gioca segna. Il problema è quando gioca. Perché gioca veramente pochissimo. Spesso subentra dalla panchina. Bravo quanto volete. L'Udinese tra qualche anno sicuramente ci farà una buona plusvalenza. Però lo spazio che gli viene concesso non è che sia tantissimo. Anzi, peccato perché se giocasse questo ti arriverebbe tranquillamente in doppia cifra. Secondo acquisto dai rami del Sassuolo. Prima parte di stagione all'Empoli non ha giocato tantissimo. Teoricamente al Sassuolo dovrebbe trovare più spazio. Dionisi lo conosce. Batte poi calci di punizione. Quindi qualche bonus te lo può portare. Sia come gol che come assist. Però non era la mia prima scelta. È stato un ripiego. Bai Rami per il quale comunque ho speso 8 crediti. Non mi ricordo se l'avevo detto prima. Ma ancora più ripiego è il terzo. Bandinelli dell'Empoli. Ovviamente ho speso un credito. Per essere titolare è titolare. Qualche gol ogni tanto lo fa però è anche un giocatore soggetto ai cartellini. Ma veniamo adesso al fiore all'occhiello di quest'asta di merda. L'attacco. L'attacco dove io avevo intenzione di prendere almeno, 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 almeno uno tra Oliund e Laurentier. Come è andata? Mi stavo lottando Oliund. Solo che alla fine hanno sparato dei prezzi alti e quindi mi stavo lottando Laurentier. Lo volevo con tutte le mie forze. Stavo lottando veramente come una tigre per prenderlo. Ma alla fine anche Laurentier. Andato via Oliund. Andato via Laurentier. Proviamo con il terzo incomodo. Dani Mota Carvaio del Monza. Anche per lui ho lottato con tutte le mie forze. Solo che gli altri fantallenatori sono dei grandissimi bastardi. E quindi anche Dani Mota Carvaio sono quindi rimasto l'unico coglione che doveva scegliersi due attaccanti. Tra quelli rimasti. Ho guardato un po' tutta la lista, almeno tre volte, cercando di scegliere i due meno peggio. E alla fine ho optato per Di Francesco del Lecce e, rullo di tamburo di... Toven dell'Udinese. Di Francesco, ex Sassuolo, figlio di Eusebio, al Lecce sta disputando una buona stagione. Però non è che sia un mostro in termini di bonus. Toven dell'Udinese, invece, è tutta un'incognita. Ha vissuto delle ottime stagioni al Marsiglia, nelle quali ha segnato diversi gol. Però è anche un giocatore reduce da alcuni infortuni. E non è un caso che abbia giocato nelle ultime due stagioni nel campionato messicano. Che poi, anche lì, ha avuto qualche problema. Quindi, insomma, non è che stiamo parlando di un top dei top. Ecco. Quindi, alla fine dei conti è andata bene la difesa. Centro campo malino. Una merda, invece, l'attacco. L'obiettivo era rinforzare la squadra e direi che l'ho fallito. Va bene, ragazzi. Questo è stato un po' il mio video sull'asta di riparazione del fantacalcio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ditemi se giocate al fantacalcio. Qual è la vostra squadra. E le eventuali mosse che avete fatto nell'asta di riparazione. Io, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.